Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidesti di iscriverti ora. Grazie! I sag dir jetzt warum, wieso? Sie sind ein Lebensgefühl, sie sind für mich da, wenn ich überhaupt nix mehr fühl, aber viel zu teuer, wenn ich Takis es brennt, mein Mund wie Feuer. Keine Kontrolle in meinem Leben, für Takis würde ich überhaupt alles ü- Ich erro, einu, witte kto... e che è dove è chi no si maincraffta è è è è io be no idio te neprostno si bel che show si no vizios vizio 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 avitio 50 in me ne tèche 50 in me ne tèche 2 ha extra se il gioco i nemmeno zurück bekommt alles klar ich nehme die also du musst sagen ob du das haben möchtest darf ich das haben ja vom ding schon wirklich ja ich probiere es direkt aus gut dass wir totems haben das war mein erstes post mortal nicht anklicken O O O O O O O Main gott, Ellie! Neeee! Fai lo il nome! Sei ma chi il tuo amore,iewa? Vas? Che? Hoh oh oh oh! Was war das? Hä? C'è la fa a un po' Donations Come on come all' break, Ahi, Ahi che Ahi il nome, è un po' Donations Da's l'Espine Sono Ok, Eh, WeMM Che C'è Lava È C'è Il Slow Oh Eh, Sì, vediamo. Noi, non è vero. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Basti è il migliore il migliore di questo server. Eh, Let's Hugo è il migliore. Eh, lascia il migliore, io voglio un po' di tutto, e voglio un po' di tutto, perché questo è il mio giusto. Se tu con questo figlio, mi fai un po' di questo... non posso farlo se non si fico se è un interno questo è un contento io ho potuto vedere lo che si triggerebbe perché sei il mio amore cosa succede io nemmo con i link nemmo il mio solo con il mio ma 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 no mine, non è così, non è No, 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 no. Sì, sono stato fatto! Non lo so! Come puoi fare? Ma... 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 Sì, Cioè, dreams Ja... Ich habe es irgendwie nicht durchdacht, warte! Ich kann das aber fixen! Ist es wie so bei Stardew Valley, ich bringe jetzt Bastille jeden Tag ein Geschenk, bis ich dann so dass Freundschafts-Event habe und irgendwann heiraten wir und dann kriegen wir irgend so ein kleines Bastille-Zombie-Kind Warte Mal... Sì un po Posta出ます Don E E E E E Katsukoi 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 C'è me chai! Io bravo un animato e-mote. C'è un'imito in 5 minuti di un'emote? Gimbi 2. Heiko, io erkenne da qui un'asus cartone. Questo è un'alti mainboard. Ne, un'nei. Richtig. Tu sei nitt, Digger. O Oh fuck man, scheiße, ich muss los leute. Oh fuck man, scheiße, ich muss los leute. Ok, danke. Ok. Oh, mi è stato il DJ Pulto runtergefallen.